Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Tele Molise in apertura parliamo di ciclismo tutto pronto per la Fondo Molisana gara organizzata dalla Polisportiva Team Termoli La Polisportiva Team Termoli anche quest'anno ha curato nei minimi dettagli la Gran Fondo Molisana giunta alla 17esima edizione finalmente dopo tanto lavoro è tutto pronto per la gara valida come prima prova del Centro Italia Tour e prima prova del Giro delle Regioni d'Italia XAIN domani appuntamento alle 7 per il ritrovo dei concorrenti con partenza prevista alle 9.30 sul lungomare Cristofolo Colombo due i circuiti con la Gran Fondo di 110 km con un dislivello di 1600 metri verranno toccati diversi comuni partenza da Termoli poi Tappa, Campomarino, Nova Cliternia, San Martino, Empensilis, Ururi, Larino, Guglionesi San Giacomo degli Schiaveoni Petacciato e arrivo a Termoli previsto intorno alle 12 il secondo percorso di 75 km con dislivello di 1000 metri relativo al medio fondo si sloderà lungo Termoli, Campomarino, Nova Cliternia, San Martino, Ururi, Larino, Guglionesi e arrivo ancora una volta a Termoli a fine manifestazione verranno premiati i primi tre assoluti al maschile e al femminile e i premi per i primi tre di ogni categoria una kermess sportiva ma anche turistica che in questo weekend riempirà gli alberghi sulla costa la gara ciclistica internazionale conta oltre 1500 atleti in rappresentanza di circa 250 società sportive provenienti da tutte le regioni d'Italia con la partecipazione di diverse squadre straniere sarà una domenica per i professionisti delle due ruote ma anche per i semplici cicloamatori il sodarizio di Bruno Erace ha pensato a tutti infatti non mancherà il circuito cicloturistico di 55 km per trascorrere un fine settimana all'insegna del divertimento la fondo molisana che ha sposato il progetto Costa dei Telfini ha come scopo quello di far scoprire le bellezze della costa e dell'entroterra molisano mediante lo sport Muntan Bike domani la Molise Tour Bike del presidente Giuseppe Gennarelli sarà impegnata nella terza edizione della Gran Fondo di Montevergine con partenza da Mercogliano nella appunto una gara impegnativa con 45 km da percorrere per 1700 metri di dislivello 12 saranno gli atleti della Molise Tour Bike presenti sulla linea di partenza per il calcio di Serie D le partite in programma Campobasso, San Marino, Iesina, Castelfidardo, Matelica, Monticelli, Agnonese, Alfonsine, Pineto, Vastese, Re Canatese, Fermana, Romagna, Centro, Civita, Novese, San Maurese, San Nicolò, Riposa, Bispesaro domani al Selvapiana ospite il San Marino dell'ex allenatore del Termoli e dell'Agnone Pino Di Meo il Campobasso deve tornare al successo in Campobasso San Marino di domani pomeriggio il pareggio potrebbe piacere poco ad entrambe le squadre il rosso-blu chiedono all'avversario di turno il successo per ipotecare la salvezza di contro Di Meo tecnico del San Marino deve solo vincere per poter nutrire ambizioni di playoff una lotteria spesso ridondante in Serie D è utile solo ad aggravare per due settimane ancora i bilanci delle società di quarta serie un concetto quest'ultimo che abbiamo tenuto a sottolineare più volte tornando alla gara di domani pomeriggio diremo che la formazione che deciderà Massimo Silva non sarà molto dissimile dalle ultime a meno che il tecnico rosso-blu non decida di concedere un turno di riposo a qualcuno che ha tirato troppo la carretta ma anche questa evenienza potrebbe apparire improbabile Palumbo andrà in porta poi Frabotta, Esposito, Russo, Corbo, Fazio, Iaboni, Grazioso, Frezzi infine in attacco in Prota e Martiniello in Prota stesso ha avuto problemi all'adduttore ma potrebbe farcela così come Vitelli dovrebbe rientrare tra gli arruolabili di domani pomeriggio Di Meo non avrà il solo squalificato Gassama, difensore centrale in porta andrà Dini difesa a quattro con Menini e Fantini sugli esterni Fagioli al centro della difesa con Zamanni a centrocampo Bova, Cenci e Baldazzi attacco a tre punte con Caprioni, Buonocunto e Dolcese si prospetta una gara aperta e anche ricca di emozioni il Campobasso vuole cancellare lo stop di sette giorni fa il San Marino spinto dal vulcanico allenatore Pino Di Meo certamente non scenderà in Molise per accontentarsi o fare una partita attendista appuntamenti importanti ne ha pure la società e sono fissati anche a breve termine tra questi il pagamento di quanto dovuto all'ex calciatore Lanzillotta in merito c'è stata una condanna a versare la somma di circa 7.000 euro al giocatore pena un punto in meno in classifica i dirigenti sono a lavoro già da tempo per reperire le risorse utili a fronteggiare tale incombenza fischietto rosa per Campobasso San Marino la signora Bianchini di Terni è stata chiamata per dirigere domani pomeriggio a Selvapiana a partire dalle 14.30 al Civitelle sono in programma i 90 minuti tra Olimpia Agnonese e Alfonsine arbitro Giuseppe Vingo di Pisa assistenti Cristofer Meloni di Olbi e Marco Bianchi di Roma calcio a 5 di Serie B in caso di successo dell'Isernia in casa della Shaolin Soccer e relativa sconfitta del Giovinazzo oggi gli Isernini potrebbero festeggiare la promozione in Serie A trasferta a Manfredonia per la Shaminade il Cus Molise ospiterà l'atletico Cassano basket di Serie B domani alle 17 il Globo Isernia se la vedrà a Palla Fraraccio con il Senigallia per il girone D della Serie B di basket la prima domenica di marzo significa pausa campionato in programma infatti c'è la Coppa Italia sosta che però non tocca il Globo Isernia domani infatti al Palla Fraraccio arriva il Senigallia per il recupero della 14esima giornata d'andata un match delicato per il team Pentro che arriva dopo una brutta prestazione sul parchi di Giulianova coinciso con la sconfitta per 76-57 di Norcino e Soci bisogna voltare pagina subito è l'occasione di quelle ghiotte battere Senigallia, salire a quota 16 in classifica e accorciare proprio sui marchigiani la squadra di Coach Valli con 20 punti in classifica frutto di 10 vinte e 11 pest si trova a metà classifica ma è riduce dal bruciante capo interno all'ultimo secondo una settimana fa contro Biceglie che si è imposta per 84-82 in una partita tiratissima i 31 punti della guardia Maggiotto non sono bastati per vincere il morale quindi non sarà dei migliori e proprio su questo fattore dovrà puntare il Globo per centrare una V fondamentale lo starting five marchigiano oltre a Maggiotto sarà completato dal Play Caverni dalle ali Bertoni e Pierantoni e dal centro Iande Foll ex Napoli e Verone in A2 Coach Sanfilippo che sconterà l'ultima giornata di squalificare in banchina il vice Matticoli punterà tutto sul duo Norcino-Smorra entrambi autori di 16 punti contro Giulianova minuti importanti avvela il positivo Manetti mentre da Patani e Sipala dovranno arrivare punti pesanti nei momenti difficili del match pronti sul cupo del cambio ci saranno Cazzineo, Trigiani e Melchiorri l'appuntamento è fissato per domani alle ore 17 con ingresso a 3 euro come sostegno ad una società che fa sacrifici da tanti anni parola della società al Palafraraccio Palla 2 data da Antonio Massafra di Firenze secondo arbitro Gian Lorenzo Miniati di Arezzo nel recupero di giovedì scorso Venafra ha battuto Taranto per 75-61 con 15 punti di Liburdi e si porta a quota 12 in classifica In C Silver, seconda gara della fase ad orologio per l'Airino Basket Termoli che domani alle 19.30 se la vedrà con il Silvia al Palasabetta è in programma nel pomeriggio l'evento Un Gol per un Sorriso insieme per Francesco gara di beneficenza in programma allo stadio Battiloro di Petacciato scenderanno in campo le vecchie glorie giallonere e quelle del Montenero appuntamento fra pochissimo Calcio d'eccellenza, ottava di ritorno In anticipo Campo Basso Spinete Macchia Venafro, Sesto Campano Basso Girardi in campo domani Alife Cliternina Olimpia Riccia, Isernia Pietra Monte Corvino, Guglionesi Polisportiva Gambatesa Campo di Pietra, Termoli, Treppini Domani diversi scontri diretti in chiave Salvezza 23.00 giornata del campionato di eccellenza allo Spinelli la Life ospita l'ultima della classe la Cliternina la padrona di casa punta ai tre punti per un buon piazzamento in classifica dirige il match degli Carpini coadiuvato da Di Tullio e Donofrio anche il Guglionesi forte dei suoi 39 punti non teme un Pietra Monte Corvino che ristagna in fondo la classifica arbitro saluppo assistenti Izzo e Veneziale al Venditti il Gambatesa che quest'anno non gode di un periodo d'oro dovrà vedersela col campo di Pietra già in zona salvezza per la regolarità della gara Petraione Bibò e Viotti occhi puntati al Carnarsa il Termoli incontra il Treppini che anche in caso di vittoria non potrà raggiungere le prime tre Meo De Santis e Mainolfi a dirigere il match ultimo incontro interessante quello tra l'Olimpia Riccia e Lisernia i padroni di casa affronteranno una squadra formata da giovani atleti Di Rienzo vuol far respirare i titolari arbitro lustrato assistenti del Balso e Galeazzi Mercoledì prossimo il Macchia di Senni ospiterà il Paterno per la gara di ritorno degli ottavi della Coppa Italia il tecnico degli Abruzzesi Siamo con Alessandro Lucarelli allenatore del Paterno Calcio mister forse tutto che aspettavate tranne che condurre 3-0 già dopo i primi 20 minuti insomma una bella prestazione non poteva essere altrimenti avete portato un grosso risultato a casa Sì però come ha detto lei tutto troppo facile e so benissimo che il ritorno non sarà assolutamente così facile so che il Macchia di Sernia è un'ottima formazione oggi mancavano di due elementi fondamentali tipo Fontana e il suo capocannoniere Panico giocatori di di questa categoria di passaggio quindi sappiamo benissimo che il turno si passa nelle due partite e dobbiamo fare una partita altrettanto attenta e con l'approccio giusto anche mercoledì prossimo ecco così possiamo dire l'obiettivo principale vostro resta la vittoria del campionato perché magari è la porta principale per il salto di categoria non è poi così un utopiaggio è che la vetta dista a due sole lunghezze avete tutte le carte in regola per giocarvela sì a differenza della squadra del Macchia di Sernia che loro sono primi e credo che vinceranno facilmente il campionato avendo 5 punti di vantaggio noi abbiamo ancora la responsabilità è questa ma comunque io conosco i giocatori del Macchia di Sernia quindi l'anno scorso giocavano con l'Isernia io stavo ad Avezzano quindi li conosco sono giocatori che non si vorranno sfuggire questo traguardo ma io me lo auguro che loro possano vincere e per quanto riguarda noi il campionato è comunque sì ancora in ripresa noi siamo in rimonta ormai da dicembre e adesso ci godiamo questa vittoria ma dobbiamo stare concentrati sia domenica prossima perché non si può sbagliare in campionato e lo stesso mercoledì ecco diceva bene a lei prima mercoledì non sarà forse una passeggiata di salute perché il Macchia magari sarà al completo e tenterà la rimonta assolutamente sì come giusto nelle cose del calcio dei doppi confronti ma anche noi dobbiamo venire lì con l'idea che la partita non è assolutamente la qualificazione non è ancora raggiunta campionato di promozione anche qui si gioca l'ottava di ritorno unico anticipo in promozione Matese Molise in campo domani Baranello Castelmauro Biccari Vulcania Boiano Real San Martino Campomarino Sant'Eliana Frentania Bois Elzi Metalsilembo Maronea Roseto Rocca Sicura Cerce Maggiore riflettori accesi sul match Frentania Elzi Per l'ottava giornata di ritorno fare i puntati sul big match Frentania Bois Yelzi Entrambe le squadre al vertice della classifica si contenderanno la vittoria In gioco infatti ci sono punti importanti Vincere per gli ospiti significherebbe agguantare il secondo posto insieme proprio alla Frentania A dirigere l'incontro Stefano Cicchini di Termoli assistenti Claudio Di Pietro e Giuseppe Gizzi Al Colalillo il Boiano ospiterà il Real San Martino prima contro ultima una gara sicuramente alla portata della capolista che potrebbe allungarsi in classifica 90 minuti affidati a Corrado Ferrara di Sernia assistito da Silvano Giannantuono e Matteo Quici Trasferta a Biccari per il Vulcania le due fuori regione reduci da un pareggio ce la metteranno tutta per conquistare i tre punti fondamentali per i pugliesi impelagati nella griglia play-out dirigerà la gara Sebastian Bruscino di Campobasso coadiuvato da Mario Di Falco e Jacopo Dardone il Baranello che da tre turni non conosce sconfitte ospiterà il Castel Mauro al contrario i Biancorossi necessitano di punti per allontanarsi dalla zona a retrocessione il prima possibile gara affidata a Pasqualino Fattore di Serni assistenti Carlo Marinelli e Vincenzo Grano scontro diretto quello tra il Campomarino e la Santeliana due squadre che puntano ad una salvezza tranquilla e che domani cercheranno di riscattare il K.O. dello scorso turno fischietto del match Francesco Scarati di Termoli assistito da Andrea Quaranta e Mareini Doganieri a Monte Falcone la Marone ospiterà il Roseto alla vigilia una gara che vede come favoriti proprio gli ospiti di fronte una squadra che non lascerà nulla al caso per risalire la china a questo punto del campionato la gara sarà diretta da Marco Vasile di Sernia coadiuvato da Fiori di Ciuccio e Giuseppe Belvedere infine trasferta ostica per il Cerce Maggiore ospite del Rocca Sicura entrambe le squadre certamente vorranno riscattarsi dopo l'ultima uscita negativa favoriti i padroni di casa ma il Cerce Maggiore giocherà tutte le sue carte per aggiudicarsi la vittoria arbitro Amedeo Monaco di Sernia assistito da Antonello Verrino e Marco Palazzo Calcio femminile trasferta impegnativa per il Ripa Limosani domani le ragazze di Bagnoli saranno ospiti del Casal Nuovo prima in classifica insieme al Bellante adesso vediamo le partite in programma in prima e seconda categoria prima categoria Girone A Atletic Mignano Carpinone Aurora Capriatese Rocca Ravindola Comprensorio Vairano Fossa Ceca Nuovario Nero Bois Vairano Pozzilli Forulum Real Prata Rufre Fornelli Monteroduni Riposa Fortitudo Cerri Girone Bibbi Saccia Chiauci Mafalda Caravilli Polisportiva Ferrazzano Trealchi Ripa Limosani Quartiere Campobasso Nord San Pietro In Valle Ripa Limosani Trivento Sant'Angelo Limosano Pesche San Pietro Avellana Campobasso Riposa Donques Agnone Girone C Fiammalarino Alberona Macchia Valfortore Ripa Bottoni Mirabello Colletorto Porto Cannone Altilia Samnium Real Gildone Gruppo GSM Ururi Quattro Torrichieuti Volturino Termoli Riposa Casalnuovo Monterotaro Scendiamo in seconda categoria Girone A Ala Fidelis Montenero Macchia Codenese Castel Di Sangro Masseria La Corte Domenico De Sisto Miranda Sporting La Pietra Real Carceres Sant'Angelo Sepino Morcone Riposa Sassinoro Girone B Acli Casali Dauni Audax Toro Real Gambatesa Campo Lieto Fiamma Folgore Celenzia Rez Morgia Petracatella La seconda Bananello Realmente Cerce Piccola Polisportiva Fortore San Marco Lacatola San Giovanni Ingaldo Infine nel Girone C Castropignano Accademia Campobasso Guardia Alfiera Fossaltese Montagano Petrella Trecolli Rotello Muxu Funimundimitar Oratino Rocca Vivara Salcito Matrice Torella Calena Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente domani alle 14.25 a tutto campo in studio Benedetta Fazio Francesco Brunale e naturalmente collegamenti dai campi dove giocano le squadre molisane alle 18 domani pomeriggio domenica sport fatti commenti interviste e immagini alla domenica sportiva vi segnalo anche i nostri highlights i gol della domenica domani sera a partire dalle ore 22 bene è tutto buon fine settimana o do o o o o o o o o Grazie a tutti